questo. Vorrei solo ricordare che questa presentazione organizzata dal Comitato Zero Fasse di Padova abbiamo anche su Eco Magazine cominciato a pubblicare l'inchiesta dei carabinieri del nucleo operativo ecologico dei NOE che non fa altro che ribadire con prove, con certificazioni e con prove oggettive quello che da decenni forse anche di più i movimenti, i comitati dicono sulla questione Fasse mettendo in luce le responsabilità politiche, istituzionali e purtroppo anche delle strutture sanitarie che dovrebbero garantire e controllare lo stato della salute dei nostri territori. Non è stato fatto, la questione Fasse è stata occultata mettendo veramente a repentaglio e a rischio la salute e la qualità della vita di migliaia e migliaia di persone in tutta la legione. Quindi ricordiamo che c'è Eco Magazine quindi vi invito anche a guardare il sito e a leggerlo perché davvero è questa inchiesta dei NOE farà brividire per la precisione, ci sono nomi e cognomi dei responsabili regionali, politici, istituzionali e ovviamente della multinazionale Miteni. Ecco quindi io adesso detto questo do la parola a volevo ricordare in ultimo che non esistono zone rosse a maggior rischio e zone a meno rischio poiché l'acqua scorre dappertutto e vada soprattutto è un problema sulla catena alimentare nel senso che i campi sono irrigati dai pozzi che attingono l'acqua diciamo contaminata da FAS quindi è un rischio generalizzato non ci sono classificazioni di zone più o meno a rischio. Da questo punto di vista la prevenzione che è unico sistema per cercare di impedire lo sviluppo di malattie spesso anche gravissime come i tumori alla tiroide in questo caso ma anche altre e sappiamo che come con l'amianto queste malattie vengono fuori dopo 20 30 anni e si riproduce lo stesso schema. Allora bisogna che ci sia veramente un'opera di prevenzione radicale con uno screening generalizzato del sangue perché è solo lì che si può capire il grado di contaminazione del sangue e questo screening va richiesto all'assessorato alla sanità della regione Veneto. In subordine a questo si può partire fin da subito perché nella zona rossa sono stati messe dall'arpa delle strumentazioni di cui però usufruiscono solo in questo a tutt'oggi solo il 60 per cento rimane un 40 per cento. Allora logica vorrebbe che tutti anche fuori dalla zona rossa potessero accedere a questo screening. Guardate l'analisi del sangue è quella più veritiera purtroppo perché con l'analisi sull'acqua siccome i parametri sono stabiliti a 10 se i FAS sono a 9,99 non sono rilevati per cui noi dobbiamo pretendere un nostro diritto proprio per mettere in sicurezza la nostra salute, la nostra qualità della vita. Adesso la parola ad Alberto che è un nostro amico, compagno, attivista, è stato con noi protagonista di molte lotte, di molte battaglie, con manifestazioni con migliaia e migliaia di persone, azioni di vette, di blocco della Miteni che adesso se n'è andata e se n'è fuggita però purtroppo lasciando il problema della bonifica che va risolto in una maniera più assoluta e quindi volentieri diamo la parola all'amico e al compagno Alberto Peruffo. Grazie a Danilo. Io potrei cominciare da uno degli ultimi fatti. Oggi, anzi ieri, oggi è uscito sui giornali, la proprietà della Miteni è andata all'asta. Dunque è anche curioso capire quale sarà il futuro di questo sito fortemente contaminato. Ci sarà solo una soluzione per il futuro, sarà proprio bonificare l'area, proprio tirar via tutta la terra. C'è un grande pastiglione di contaminante che continua a contaminarci. Dunque avere anche le acque potabili, dei rubinetti, non serve a niente se continuiamo ad avere questo grosso pastiglione che non viene bonificato. L'asta è stata chiusa ieri e da quello che abbiamo appreso dai giornali è stata comprata da una holding indiana. Questo è preoccupante, ora noi faremo un'analisi di chi è la proprietà effettiva di questa holding indiana, però vuol dire che andranno magari ad inquinare in India, sapendo che in Asia i controlli probabilmente sono molto più sciolti rispetto ai nostri. Anche in Italia, però il pericolo esiste. Altro dato sconcertante, arriviamo da una produzione di un film venerdì scorso al Teatro Astra, con tutte le parti del movimento coinvolte, dove finalmente abbiamo potuto capire cosa è successo in America, alla DuPont, dagli anni 60 all'anno 2014. Questo ci dà molta luce sulla situazione di Vicenza, di Verona e di Padova, soprattutto per quando riguarda gli ultimi contaminanti, il Gen X, il famoso Gen X, che sembra una sostanza arrivata dal cielo di ultima generazione, quando invece una sostanza che fu brevettata nel 2005, depositata nella Rea, ci pensa Danilo, nel 2011 dalla Mitteni e dalla Solvè di Spinetta Marengo, è iniziata a lavorare, a separare praticamente la parte buona dalla parte cattiva, dalla Mitteni nel 2014, con l'approvazione naturalmente del permesso da parte delle autorità nostre, dunque dalla regione, dalla provincia, chi firmava a quel tempo l'AIA. Non solo nel 2017, fu un dato sconcertante per noi che eravamo in piena emergenza, in piena lotta, poco dopo una delle nostre manifestazioni, mi sembra che fosse il luglio del 2017, la regione Veneto, con firma di Bottacina, dà il via libera, diciamo, al cogeneratore, che è un inceneritore che avrebbe permesso la continuità di produzione alla Mitteni. Noi abbiamo ritenuto tutto ciò veramente uno schiaffo di fronte all'emergenza che stavamo vivendo. Vedendo il film americano scopri che la contaminazione è conosciuta da tantissimi anni, è impossibile che in Italia non si sapesse nulla. Vi do solamente dei dati di carattere cronologico. Negli anni 60, anzi, il PFOA fu inventato nel 1947, mi sono ripreso gli appunti di Billot quando venne qua l'avvocato americano. E nel 51 la DuPont cominciò ad acquistare e a lavorare questa sostanza dalla 3M. Pensate quanti anni fa? 51. Negli anni 60, faccio proprio salti molto ampi, iniziano a studiare e allora cosa succede? Queste grandi fabbriche chimiche hanno un'equip di scienziati di altissimo livello all'interno, perché studiano sia le cose positive sia le cose negative, per poi magari tacitarle, secretarle e manovrare meglio il mercato. Spesso funziona così. Negli anni 60 scoprono la tossicità di queste sostanze, cominciano a fare i primi studi, ad esempio, sui ratti, sapete di quanto sono? Del 61, 1961. Sui cani nel 62 e poi proseguono sulle scimmie, sapete la grande connessione che c'è purtroppo tra anche l'apparato genetico delle scimmie con l'apparato umano. E dunque trovarono che queste sostanze facevano male già in quegli anni, hanno secretato, tacciuto e andarono avanti fino agli anni 80, quando a un certo punto capirono che erano talmente tossiche da pensare di sostituirle. Nel film si vede questo. Il titolo inquietante del film, che magari un giorno vedremo anche a Padova, è The Devil We Know, il diavolo che conosciamo. E ora sei lì che guardi questo film e a un certo punto vedi la parte sotto giudizio nel processo e vedi che il giudice obbliga a leggere le carte, anche le volgarità. A un certo punto c'è uno dei dirigenti della Dupont che dice dobbiamo stare attenti perché se vengono a scoprire di questa merda, e lo fa ripetere, ci fanno fuori. Nel film a un certo punto vedi che loro nel dubbio pensano di cambiare produzione. Trovano un'altra sostanza, però costa troppo. Cambiare gli impianti costerebbe tantissimo. E decidono proprio di andare avanti. C'è questo scambio di foglietti quasi di stampo quasi mafioso. E dicono è meglio che continuiamo con The Devil We Know, con il diavolo che conosciamo. E continua la produzione del C8 per altri vent'anni, fino agli anni 2000, quando per un caso proprio di natura geografica, il contadino, un contadino tenant che abitava subito a valle della fabbrica, avviene uno sversamento fuori misura e muoiono ben 100 capi di bestiame. La sua fattoria viene rasa al suolo, lui si ammala e da lì parte l'indagine di Billot e si arriva piano piano al processo che fece piegare e smettere il C8, fatto un altro passo per arrivare alle mitene di oggi, nel 2010 circa. Siamo verso il 2010-2011. Cosa succede? Che nel 2005 viene accusata, la DuPont è costretta a pagare centinaia di milioni di euro agli operai, quelli che sono sopravvissuti naturalmente, e con tutti questi soldi, al posto di tenerseli per loro, fanno proprio anche un gran passaggio di civiltà, decidono di dargli alla comunità intera, al mondo intero, di iniziare questa indagine epidemiologica che sarà la più grande indagine sanitaria al mondo su 70.000 persone. Per arrivare dunque al 2012, questo panel scientifico che parte dal 2005 fino al 2012 e dichiarano che il C8 è fortemente tossico e deve essere tolto quanto prima dal mercato. Cominciano allora gli allarmi in tutto il mondo, perché il mondo è contaminato da queste sostanze, lo trovi dappertutto. Arrivano in Italia, cosa si mettono a studiare? Adesso devo stare attento a quello che dico, anche perché poi è tutto anche querelabile. Però nel 2011 iniziano a studiare il Po. La prima indagine viene fatta da un tecnico di nome Polesello, accompagnato da un altro tecnico, Arpav. E vedono già che c'è molto inquinante nel Po. E Zeppo, insomma, di questi PFAS, che era stato lanciato questo allarme a livello mondiale, da lì cosa fanno? Per due anni non si sa più niente. E questo è il punto oscuro della vicenda. Fin quando nel 2013 arriva una nuova chiamata alle armi del governo e vuole un approfondimento di nuovo sul Po e risalgono alle due aziende, ai due punti, diciamo risalgono il Po, capiscono quali sono i punti, le fonti primarie. Una è la famosa Solvay di Spinetta Marengo, che però diversamente dalla Mitteni, che è la seconda fonte che, sapete bene, è a Trissino, ha un fiume molto grande, è il secondo ramo del Po, dunque ha una grande diluizione, e l'altra grande fabbrica, la Mitteni, grande per così dire come produzione. La Mitteni dove scarica? Per tanti anni, sapevamo, è attestato, che scaricava nella poscola, addirittura in falda, si pensa che tante cose sono state insabbiate, furono prodotti dei fanghi che andarono dappertutto la famosa tratta dei fanghi tossici in Africa. Andiamo a vedere la storia di quelle navi e cosa c'era dentro. Ora sarebbe un po' anche da rivedere. Fino ai giorni nostri, quando dicono di aver smesso il C8 e se non interveniva la cittadinanza, i movimenti, i blocchi, loro sarebbero andati avanti perché avevano già sostituito sia in America che in Italia il C8 con una nuova sostanza di cui il nome era criptico, quasi indecifrabile, GenX, il C6O4. E noi ce la troviamo adesso, e questo è gravissimo, io che abito a Montecchio a 7 km dalla fabbrica, non sta andando verso l'Unigo, sembra il GenX, viene più verso Montecchio, Creazzo, Vicenza. I nuovi dati a Arpa dimostrano GenX e C6O4, soprattutto mi sembra C6O4, nella zona proprio del mio paese. Noi abbiamo grande timore di tutto ciò. Mi fermo, magari Danilo Italo. Pronto? Allora Alberto, una domanda. Allora sappiamo da alcuni dati che i FAS, come dire, in acqua, hanno una velocità di distribuzione di un chilometro e 600 metri ogni anno. Mi confermi questa cosa? Sì, c'è... Vanno per chilometro all'anno. L'umità di misura sì, poi che siano due, che siano tre, che siano cinque. Comunque è questo. Esatto, ma stiamo parlando però ormai da tanti anni, da dieci e passa anni. Di poco, dunque puoi ricostruire anche storicamente. Possiamo ricostruire storicamente. Ma allora la domanda è questa. Ma ha senso rispetto a questa cosa parlare di zone a differenza a grado di inquinamento? Cioè, ha ancora ragione ad essere la zona rossa, la zona gialla, arancione, verde e via di questo passo. Allora, sì, la domanda è curiosa perché posso allezzarmi a un altro parametro, che sono i limiti di FAS. Allora è curioso perché in realtà sono... Quando noi parliamo di limiti, ad esempio, delle sostanze inquinanti, adesso c'è sta battaglia per arrivare allo zero FAS, che è una battaglia legittima. Però sapete che hanno spostato i vari limiti a secondo di acque superficiali, acque profonde, che se sta un battibecco, diciamo, tra regione e stato. Però questi limiti non è neanche altro che un'amministrazione di inquinamento. Hai capito? Perché queste sostanze qua sono talmente tossiche che non dovrebbero esserci. Loro stanno amministrando l'inquinamento. La divisione in zone di varie colori aveva la sua ragione perché il plume ha una contaminazione differente rispetto, però è difficile, diciamo, contenerlo in modo preciso. Il plume delle acque, però, hai capito, potrebbe avere una sua ragione d'essere per quanto riguarda le acque. Le acque sono la fonte primaria dell'inquinamento nel sangue, ma qual è la fonte secondaria, che ancora non sappiamo se sia secondaria o primaria? Gli alimenti. Gli alimenti vanno dappertutto? No. Dunque, la distinzione e gli alimenti, le georeferenze sugli alimenti non ce l'hanno ancora dato. Dunque, per quanto riguarda, se noi dovessimo vedere a livello proprio organico l'inquinamento, le zone non hanno ragione di esistere. Avevano una ragione amministrativa nel momento in cui è partita l'emergenza e perché probabilmente anche loro, per quanto magari i criminosi siano stati di certi comportamenti, poi saranno detti criminali, spero, da chi di dovere, non sapevano come gestire la cosa. È una cosa spaventosa, è una cosa fuori controllo. Allora, diciamo, magari tu tecnicamente sai esprimere meglio, ma essendo inquinata la seconda più grande falda acquifera d'Europa, e direttamente anche dalle risorgive sostanzialmente, il materiale inquinante si deposita sotto la Miteni, peraltro, ma viene rilasciato a poco a poco nel tempo, per cui quello che noi oggi chiamiamo zona rossa, cioè il cuore del diavolo, si sta appunto diluendo e a poco a poco arriverà anche quella concentrazione anche qui da noi, proprio perché viene portata dall'acqua. Questa è la prima domanda. La seconda è sulla catena alimentare, che sembra essere davvero oggi, io credo, il nuovo orizzonte della battaglia, diciamo, contro l'inquinamento e l'avvelenamento dalle acque qua in Veneto, poiché gli alimenti, anche questi, sono venduti ovunque, hanno una circolazione nel mercato e è ovvio che contengono sicuramente delle sostanze, perlomeno nei nostri territori di questo tipo. Allora, che fare per cercare in qualche maniera di combattere e ovviamente di mettere alle strette quei responsabili politici ed economici che noi già abbiamo individuato, che sono ovviamente le multinazionali, quindi chiaramente le responsabilità delle multinazionali con nomi e cognomi dei loro dirigenti, in particolare la Miteni non è altro che Mitsubishi più Eni, per dire, e quindi l'Eni si ritrova sempre comunque in mezzo alle peggiori schifezze che esistono in questo mondo, da una parte. Dall'altra, questa multinazionale tedesca che ha acquistato, che ha acquistato appunto per un euro, ricordiamo che questo episodio è pazzesco, dalla Mitsubishi, perché la Mitsubishi chiaramente voleva sbarazzarsene, perché era già emersa al loro interno, senza che fosse conosciuto appunto dalla cittadinanza e dal popolo, chiamiamolo così, il grado di inquinamento devastante che c'era dentro. Quindi è stata praticamente venduta per un euro proprio per evitare la bonifica radicale, profonda, di tutta l'area, di tutta la zona contaminata. Quindi queste, uno. Due, le seconde responsabilità ancora più disgustose per alcuni versi, sono quelli del potere politico locale e di chi ha governato questa regione negli ultimi 20-30 anni, insomma, no? A livello sia di regione ma a livello anche di amministrazioni provinciali e locali. Terzo elemento è il ruolo veramente vergognoso dell'ARPAF che dovrebbe avere il compito di tutelare e controllare proprio rispetto alla salute dei cittadini. Allora, proprio per fare memoria, diciamo, di cosa bisogna fare, ti dico subito due parole dopo me le ricordi, ti rispondo la prima. Però bisogna esautorare e ricostruire la catena di responsabilità. E poi ritornano. Però intanto la zona rossa ti rispondo alla prima domanda. Indubbiamente, dici bene, la zona rossa è una zona, diciamo, come possiamo chiamarla, ubiquitaria che si sposta, diciamo. Sarà una zona che diventerà sempre più larga e pensando, diciamo, che cammina verso sud, andrà verso sud questa zona rossa. Il plume, anche perché se avete letto anche i giornali sono costretti a dirlo, l'ARPAF stessa è preoccupata che la barriera idraulica non sta funzionando bene. Queste grandi piogge degli ultimi dieci giorni fa, noi eravamo preoccupati perché sapete che quando piove tanto cosa accadera? Lì c'è tantissima acqua, la falda si alza, va a pescare nel pastiglione, il pastiglione, diciamo, si imbeve e l'inquinante cammina. È difficile trovare una soluzione dal punto di vista idrogeologico. Non la si troverà mai. Torneranno i prati e non torneranno, no. La natura, i geologi, ma gli stessi idrogeologi dicono che ci vorrà un secolo forse perché venga diluita tutta questo letame, questo liquame, non so come chiamarlo. Però perché questo accada bisogna farla bonifica, bisogna tirare il pastiglione. Seconda cosa, cosa fare? È molto difficile capire cosa fare, no. Però secondo me la parola d'ordine, anche in altre situazioni, noi l'abbiamo imparato, Danilo, anche grazie a tutte queste collaborazioni, è proprio esautorare. togliere l'autorità a chi non se la merita. L'autorità, alla fine, quando non è autoritarismo, è un percorso serio, coerente, di corrispondenza dei fatti. Qua accade per tanto tempo, e posso darvi anche gli ultimi elementi, che ci stanno raccontando mezze balle e mezze verità. E in questa, diciamo, dialettica tra le mezze balle e le mezze verità, ciò che io chiamo spanno veneto, spanno grafico, spanno metrico, si infila di tutto. Vi do un esempio storico della battaglia che è stata determinata, è quando anche ho conosciuto Danilo, la Luisa, la prima volta, quando noi bloccammo la conferenza di questa lezione magistrale, che chiamavano questo dottore, che neppure nominiamo perché neppure se lo merita, che veniva a fare una conferenza presso la Confindustria, poi parleremo anche di questa, delle corresponsabilità, alla Confindustria di Montecchio erano invitati tutti i sindaci della valle, con l'avallo, questo gravissimo, della Commissione Ambiente di Montecchio, e veniva a fare una lezione magistrale sulla bontà, sulla non nocività dei PFAS. Noi l'abbiamo esautorato con un'azione immediata di indagine sulla persona e sulla sua non competenza. E con un blocco fisico, diciamo, davanti alla Confindustria, non è venuto nessuno, proprio deserta. E lì Nardone, ricordo che ci accusò anche di le solite parole che ci prendiamo. A casa è l'ultimo caso, dove io purtroppo ho preso anche una minaccia di querela, però è giusto citarlo, in radio. Sì, tra l'altro, notizia che dico in diretta a Danilo, magari chiama l'avvocato oggi, abbiamo l'udienza il 13 novembre. Non lo sa neanche Enrico, come se prima. Vabbè, vabbè. Non so se vi ricordate, se avete letto i giornali, uscì che è una questione nazionale perché il Po è contaminato. Il Po si uscì o sta bomba? Perché loro in qualche modo volevano sollevare la questione nazionale per arrivare ai limiti, che può essere anche una richiesta legittima, però non è la strada giusta dire che il Po è contaminato oggi. Loro io gli accusai in diretta che è un video di pistaggio. E lo ribadisco perché è un portare fuori pista di uomini che non hanno responsabilità, che non hanno coraggio e che ci stanno contaminando. Il Po lo sappiamo che è inquinato dalle prime ricerche, perché le ricerche iniziarono proprio nel 2010, 2011, nel 2013, parlare oggi di Po contaminato e portarci fuori pista. Dobbiamo parlare dei fiumi che sono veramente contaminati e non dobbiamo assimilare il grande flusso d'acqua, la portata d'acqua del Po con la portata inesistente della poscole. Io parlo da contaminato e da arrabbiato. E allora in quel modo lì abbiamo esautorato una mezza verità che però loro hanno tentato di far passare a livello nazionale. Allora Alberto, scusa, un'altra domanda da parte mia che sono Italo e sono del Comitato Zero Fas Padova. Allora la domanda è questa, è come dire, è un po' a carattere generale, un po' a carattere politico. Allora siamo di fronte a questo enorme disastro che è l'inquinamento da Fas. Però siccome io non credo molto alle coincidenze, abbiamo a che fare con un altro disastro ambientale. Abbiamo a che fare con la Pedemontana che stranamente è, come dire, il primo capo, cioè il primo casello di partenza, siamo sempre lì a Montecchio, a Montecchio, cioè siamo proprio sopra la falda. Dunque la domanda è questa, ma appunto proprio perché non crediamo nelle coincidenze, ma abbiamo a che fare con una relazione stretta fra Fas e Pedemontana. Beh, qua si apre una questione inquietante, dicevo, perché la Pedemontana, allora proprio vedete che io vivo nell'epicentro di tutti questi disastri, proprio, dunque diventi attivista quasi per forza, dicevo. Comunque vivo proprio nell'epicentro, dovete pensare che la Pedemontana fu, io ero in prima linea anche sui primi comitati della Pedemontana, quando passò dieci anni fa, mi ricordo che andai a parlare anche col commissario Vernizi per tentare di bloccarla, ci diede un'udienza. La cosa sconcertante tra queste due parole, non conoscono una minchia del territorio, c'è un distacco anche nel libro, c'è un distacco tra la conoscenza dei territori, tra la geografia e chi li abita e chi li governa. Perché se tu sai che sei in un posto che è gravemente a rischio, non progetti una strada, una strada così a rischio che tra l'altro va ad incidere sulle terre pestilenziali dove c'è la Pedemontana. Non lo fai, loro l'hanno fatto. Allora sai cosa ti dico Italo, qual è forse la connessione veramente inquietante? Vent'anni fa circa un sindaco della valle di Valdagno disse, sei Valdagno un po' più sopra di Trisno che la valle del Chiampo, la valle dell'Agno è una valle diciamo senza speranza. Lo disse vent'anni fa. Cosa succede, cosa puoi fare in una valle senza speranza? Tutto. Puoi mettere su le opere più grandi, produrre le cose più tossiche, tanto è già devastata e li devastiamo del tutto. Questa secondo me è stata la logica che per tanti anni è centrata, diciamo, nei nostri territori di cui i nostri governanti non conoscono niente. Sì, è molto interessante questo filone. A parte che mi viene la battuta che una valle ricorda la Val di Susa, per cui che fare? Credo che la Val di Susa sia la dimostrazione materiale e pratica di quello che si può fare, cioè resistere e combattere. Altrimenti siamo destinati a perdere completamente, ma non a perdere, se la posta è il gioco è la vita. Per cui noi perdiamo veramente qualcosa di radicale, insomma, no? Per cui l'unico sistema è questo. La Pede Montana poi si è scoperto che ha dei rifiuti, per cui al discorso di dire non sanno, hai ragione, non sanno, non conoscono il territorio, ne frega niente, perché appunto gli basta prendere voti e occupare delle posizioni di rendita politica, di privilegio politico, no? Qualsiasi sia. Ma però da una parte, dall'altra sanno bene quello che fanno. Perché è ovvio che questi sono funzionari del capitale estrattivista e quindi è ovvio, cioè la struttura che oggi produce tutto ciò è questo. Cioè i territori sono visti quasi in maniera neocoloniale come puramente e semplicemente come territori terre da saccheggiare, da rapinare, da cui estrarre risorse, no? Per avvelenare, distruggere, devastare i nomi degli interessi e del profitto di pochi per poi andarsene e lasciarli lì abbandonati, no? Grazie. No, niente, sì, volevo solo chiudere. Cioè nel senso che, cioè non è solo una mancanza di conoscenza, è proprio una logica ben precisa e strutturale che noi dobbiamo cercare di rovesciare, non c'è niente da fare. Con il lavoro bellissimo che avete fatto voi come Fastland, che hanno fatto anche le mamme, ricordiamole, no? Le mamme Zero Fast che hanno sollevato la questione sul piano mediatico a livello nazionale e internazionale. Come siamo riusciti a fare con tante iniziative che abbiamo fatto assieme creando rete, relazioni, movimento, eccetera, no? E sicuramente abbiamo colto nel segno. Però voglio dire, ciò non basta evidentemente. Se questa resistenza, come dire, non si riunifica in una maniera molto forte, è difficile che noi riusciamo a ottenere dei risultati. È il mio punto di vista, chiaro. voglio sentire anche il tuo. Beh, sono d'accordo, non ho altro da aggiungere. Bisogna cambiare radicalmente tutto. È l'unica, può essere attraverso l'unione di tutte le forze dal basso che si stanno mobilitando in questo momento. Io vedo che c'è un grande fermento. Non bisogna trascurare i giovani, ad esempio, di Fridays for Future che si sono sollevati, anche i giovani che arrivano magari da altri percorsi. Noi abbiamo fatto, per dire, stiamo investendo molto sui giovani che hanno ancora capacità critiche di ribellione, diciamo, intatte. Siamo andati nelle scuole, abbiamo proiettato questo film, abbiamo chiamato a parlare alla fine del film le rappresentanze dei più giovani, abbiamo chiamato i giovani di Fridays for Future, abbiamo chiamato i giovani di Greenpeace, i giovani di... e abbiamo detto che dobbiamo restare uniti per tentare di capovolgere tutto. Non c'è altra soluzione. Adesso dirti la strategia è difficile, chi la sa. Però l'unione l'abbiamo dimostrato comunque anche in molte nostre azioni. Ecco, allora, Alberto, sempre un'altra domanda da parte mia che mi riallaccio alle cose, come dire, dette in ultima. Allora, e per gradire, facciamo anche un po' di marketing al tuo libro. Allora, il tuo titolo è Non torneranno i prati, insomma, allude però a una situazione, come dire, un po' pessimista. Allora, in realtà poi tutto questo si scontra con... si scontra con... un'attività... no? Subito che... il titolo, per chi non conosce magari il retroscena, diciamo, no? È un po' curioso, no? Perché Non torneranno i prati a meno che. Ecco, infatti, a meno che. Siamo ancora in tempo. A meno che noi non ci ribelliamo. Allora, in realtà nasce, diciamo, Non torneranno i prati, capovolge. E questo è curioso, diciamo, il titolo del film di Armando Olmi, che io andai a vedere con un gruppo di amici montanari su Adasiago, dove rimasi molto deluso. Perché sembrava che se torneranno i prati, c'era il perdono finale. Questo perdono iper, anche, diciamo, cattolico, diciamo, della guerra, perché non sanno quello che fanno, no? Io sono uscito sconcertato e al posto di uscire a ribelli ad un film che doveva essere simbolo, no? Che doveva essere simbolo, diciamo, di combattere contro la guerra, anche i miei figli siamo usciti spenti. Allora me lo sono chiesto il perché. Tra l'altro all'inizio del film, cosa curiosa, io conoscevo un po' tutti i dettagli, alcuni amici miei, anche nell'altipiano, ci hanno lavorato. E la prima, sapete chi era il primo sponsor di questo film preso, commissionato dal governo per celebrare il conflitto mondiale, il primo conflitto mondiale? Era la Banca Popolare di Vicenza, Zonin. Messe gare i sei capelli, perché noi veniamo dalla lotta anche contro Vicenza militare, e vedere che Zonin, che era il guarda fondaio, che è stato lui praticamente il, come possiamo dire, il responsabile morale ed anche economico, diciamo, della base militare di Vicenza, a sponsorizzare questo film. Poi vederti questo perdono, ho detto no, qua i prati non tornano, come vuole Ermano Olmi, se noi altri non fiamo qualcosa. Allora ho capovolto e ho fatto sta recensione che poi diventò un'azione contro la base militare di Vicenza, con i ragazzi proprio del... Naco e Vicenza si solleva in quel periodo e facciamo un'azione, non torneranno i prati a meno che noi non ci ribelliamo. Da lì poi il percorso è continuato e è andato a finire, diciamo, in questo libro che racconta un po' le lotte del territorio, dove la consegna è proprio questa, chiude proprio con un atto di accusa di Clement Duval, che era un rivoluzionario anarchico francese, che di fronte, diciamo, ai giudici dice voi non avete nessuna autorità per giudicarmi, sono io che giudico voi per avere maltrattato, per avere fatto quello che avete fatto a questa società e non vi perdonerò mai. Ecco, noi agiamo con questo, diciamo, spirito indomito che Clement Duval consegna ai suoi giudici. Dunque non torneranno, a meno che noi non ci alziamo in piedi e blocchiamo le cose che non vanno. Infatti, allora, a meno che non ci ribelliamo, questa è una frase molto suggestiva che a me fa tornare in mente, come dire, due date importantissime. La prima data è l'accerchiamento fatto, credo, l'anno scorso, giusto? 22 aprile 2018. Allora, l'accerchiamento attorno alla Miteni, dove migliaia di persone hanno tentato, come dire, di, sì, con i loro corpi, di dare un senso a una lotta. Quindi non più rappresentanza, ma mettere in prima persona se stessi, noi stessi e la nostra battaglia. Questa è la prima data. La seconda data, a me, mi riporta a sabato scorso a Venezia. E la manifestazione contro le grandi navi. Anche lì è stato un momento importante, dove abbiamo visto la gente, migliaia di persone. E qui è una domanda che, se permetti, rivolgo a Danilo. Perché... Allora, sì, è stata una data, come dire, importante. Due date che hanno, in qualche modo, segnato storicamente un passaggio importante. Sei di questo avviso, Danilo. Sì, ovviamente. Però vorrei anche ricordare che, per esempio, la marcia dei fiori, perché diciamo così, l'accerchiamento della Miteni è un episodio, però è la costruzione di un percorso. Questo è importante capire e comprendere. La marcia dei fiori, poi ancora i 10.000 a Trissino e poi ancora, ricordiamolo, le azioni dirette, diciamo così, degli Angry Animals, delle tutte bianche, degli Angry Animals, di blocco della fabbrica, reale, davanti ai cancelli, e l'entrata, l'irruzione dentro la fabbrica. Cioè, voglio dire che tutte queste forme costruiscono un processo, un percorso. Per cui, così come le grandi navi a Venezia, non è che sono eventi miracolosi che succedono per caso. Hanno alle spalle un processo, un percorso proprio veramente di costruzione. Ed è questa, diciamo, la straordinarietà di agire e essere interni ai movimenti. Tessere relazioni, rapporti e far intersecare, intrecciare tra di loro esperienze diverse tra di loro, perché hanno un obiettivo comune. Questa è la forza dei movimenti. Quindi, se sono d'accordo, io credo che bisognerebbe, in questo momento, rilanciare anche il movimento Zero Fast rispetto alla modificazione di fase. Qual è la modificazione di fase? Che la Mitteni l'abbiamo cacciata. E quindi non è che dobbiamo vedere le cose alla rovescia, che la Mitteni se n'è andata perché sono furbi anche, ma l'abbiamo cacciata noi, perché se noi non l'avessimo bloccata, non l'avessimo fatto le lotte, chiaramente la Mitteni sarebbe ancora là, tranquillamente. Quindi è una forza che noi abbiamo espresso. Rimane il problema, ripeto, della bonifica e dello screening. Cioè, noi veramente dobbiamo pretendere, con ogni mezzo necessario, di difendere la nostra salute e di prevenirla. Dopodiché vi invito a firmare l'appello, cioè l'appello, mozione, che abbiamo fatto, che abbiamo qui al nostro banchetto, qui a lato, per chiedere con risolutezza e determinazione lo screening generalizzato e che comunque si inizi in questo processo. Vi ricordo che l'analisi del sangue per ritrovare i FAS costa una barca di soldi, 200 euro. Quindi questa deve essere data gratuitamente a tutti coloro che ne fanno richiesta, perché questo è giusto e non esistono, come diceva giustamente bene prima Alberto, zone rosse, verdi, eccetera. Perché appunto mangiamo tutti i prodotti che provengono da territori in cui i posti sono inquinati e non c'è niente da fare e non possiamo rimuovere questo problema fin da che non esiste e andare domani al supermercato e prendere tranquillamente la roba che viene venduta oppure tutti gli altri posti di redistribuzione dei prodotti. Cioè è un atto di coscienza che noi dobbiamo prendere. Cioè quindi benissimo, certo che sono d'accordo, però ripeto, sono i processi che costruiscono gli eventi, non il contrario. Cioè quindi diamoci da fare, tessiamo reti, relazioni, rapporti. Cioè sapete dove trovarci, sapete chi siamo e chi vuole partecipare. Io volevo magari solo sottolineare l'importanza di ciò che dice Danilo. Adesso magari rilancieremo la convocazione e magari anche un'avvertenza dove andiamo a sottolineare la richiesta delle analisi del sangue, poi anche della questione alimentare, di avere le georeferenze sugli alimenti e ne abbiamo anche un'altra che magari discuteremo in assemblea. Poi ecco, volevo sottolineare questo degli alimenti e della retina. Pensate che oltre a averci distrutto fisicamente, visto che qua si parla anche di economia sostenibile, di ecologia, oltre a averci rovinato il territorio, l'abbiamo detto anche in vari momenti, ci hanno rovinato un sogno. E' una cosa gravissima questo il sogno del chilometro zero. La reti gas ad esempio, la reti gas che per tanti anni hanno combattuto e hanno espresso questo sogno di poter coltivare le proprie cose per uscire dai grandi mercati. Adesso noi nelle nostre zone non possiamo neppure più accedere ai nostri orti perché i pozzi non sono, quelli della zona rossa hanno un obbligo di controllo. Appena si fuori ci sono dati allarmanti. Nelle zone vicino a casa mia ho un pozzo a 100 metri che andava dai 7000 nanogrammi al litro, adesso l'ultimo dato è 3500. Cioè è tantissimo, dunque bisogna fare rete proprio per... Basta se c'è qualche domanda, se no abbiamo finito. Se c'è qualche domanda eventualmente. Qualche curiosità? Beh, posso dirvi che nel libro c'è anche delle belle testimonianze, anche c'è delle foto, anche dei momenti che abbiamo vissuto insieme. Devo ancora vederlo Daniele, però c'è belle testimonianze che raccontano un po' la scrittura operativa che è stata utilizzata per mobilitare, per fare le assemblee. Dunque un po' il processo, diciamo, in realtà racconta un po' il processo di costruzione di tutti gli eventi che sono stati fatti. Magari quando abbiamo lanciato un sitino, subito dopo cosa bisognava fare. Un po' la nostra rete di parole dove abbiamo cercato anche di consegnare un lessico magari diverso rispetto alla tradizione. Grazie. Grazie al te, non ho il tempo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Naturalmente tramite indagini, studi, però mi fai dire una cosa che prima non ho detto quando parlavo di esautorare, anche di corresponsabilità. L'altra parola d'ordine è che dobbiamo mettere davanti a tutti quanti il concetto di corresponsabilità e costruire una catena di responsabilità. Perché non è solo la Miteni che è colei che ha sversato. Se non si davano i permessi, i permessi che dovevano dare gli enti che tutelano, che fanno il monitoraggio, la prevenzione, ciò non sarebbe accaduto? Prego. 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 contro Golia, continueremo a combattere su questo, proprio su questo.